Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo di questo inizio d'anno che inizia con il segno più per il nostro paese che si sta lentamente risollevando dalla crisi. Il bilancio di queste feste, infatti appena trascorse, è positivo. Cresce la fiducia delle famiglie che sono tornate a spendere sia per il cibo ma anche per i divertimenti. L'Italia formichina è tornata a muoversi e a macinare un po' di quel reddito triturato da una crisi spaventosa quanto interminabile. Le feste di Natale erano attese proprio per tirare le somme e sebbene si sia ancora lontani dal cantare vittoria, almeno qualche segnale positivo lo si è visto. Cresce il PIL, va bene l'esportazione. La pressione fiscale è stata pari al 40,3% in riduzione di 0,4 punti percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dallo 0,7% rispetto al trimestre dello scorso anno, con una crescita dei consumi pari allo 0,2%. Tutto questo ha reso possibile un aumento di 0,5 punti della propensione al risparmio delle famiglie consumatrici, salito dell'8,2%. Numeri confermati anche da Coldiretti, che ha registrato un aumento fino a 528 euro per le spese degli italiani durante il periodo di feste, che finalmente si sono potuti permettere tavole più imbandite, ristoranti, viaggi, regali e divertimenti. L'aumento delle spese, sottolineano dall'organizzazione agricola, è stato spinto dal ritorno, dopo anni di un debole ottimismo tra gli italiani, che in quasi 6 casi su 10 pensano che la situazione economica del paese sarà stabile o migliorerà nel 2018. Tra le spese di queste ultime settimane si registra una ripresa dei viaggi, che l'anno scorso, oltre che per la crisi, erano stati frenati dagli episodi di terrorismo internazionale. 13 milioni che hanno preparato la valigia per trascorrere una media di 4 notti fuori casa. Sempre secondo Coldiretti, la spesa è stata assorbita per il 39% dai regali, 25% dal cibo, 24% per i viaggi e 12% per musei, cinema, teatro, concerti e discoteche. Una buona notizia che colloca il nostro paese al terzo posto, dopo Spagna e Gran Bretagna, tra i paesi europei dove si è speso di più. E il terzo posto, l'Italia, se l'è conquistato anche per le vendite online, dove il boom planetario non vede crisi, soprattutto tra settimane promozionali, e prezzi super concorrenziali ai quali non possono accedere i commercianti tradizionali. Alle prese in questo periodo con i saldi di fine stagioni e con il solito pienone, soprattutto nei negozi di abbigliamento di punta, come a Torino Olympic o a Serravalle Scrivia, l'Outlet, dove solo nella giornata di ieri si sono registrate code chilometriche per poter accedere al megastore piemontese. Oggi giornata di rientri al lavoro e a scuola, con il primo sciopero degli insegnanti e con uno sguardo attento rivolto alla politica, che sta muovendo i suoi passi verso le elezioni di marzo, con i soliti proclami e richiama voti, che tra aumenti procapite e cancellazioni di tasse, fino a questo momento ci stanno costando qualcosa come un miliardo e mezzo di euro. Rimaniamo in tema positivo, boom di turisti sulle montagne del Piemonte, che un po' ovunque in queste festività hanno fatto registrare il tutto esaurito, soddisfatti gli albergatori ma anche i ristoratori e tutto l'indotto, che grazie soprattutto alle abbondanti nevicate sono finalmente risollevati dalla crisi. Sentiamo in questo servizio. Tanti turisti, che tra Natale e l'Epifania, quest'anno hanno affollato le località sciistiche e le piste piemontesi. Nonostante gli ultimi giorni, caratterizzati dal maltempo in alcune aree della regione, gli albergatori hanno avuto molti picchi di tutto esaurito, soprattutto in corrispondenza del weekend di Capodanno. Partendo dalla provincia di Torino, il tasso di occupazione delle camere alberghiere è stato generalmente alto, in particolare in Alta Valsusa e Chisone. Qui per tutto il periodo è stato in media del 95% e del 100% a Capodanno, grazie anche alle manifestazioni organizzate. Spettacoli pirotecnici sulle piste di Sestriere, mentre a Bardonecchi, alla Wave Experience, al Villaggio Olimpico, ha organizzato feste, attività e aperitivi sulle piste per l'intero weekend. Nell'area del Gran Paradiso, invece, i risultati migliori si sono registrati nel weekend di Capodanno, con un'occupazione media dell'81%. Molto positivo anche il bilancio delle valli del Cunese, dove l'affluzzo di turisti e sciatori è stato quasi sempre intorno al 90%, grazie anche all'apertura anticipata di alcuni impianti sciistici, attivi già da inizio dicembre. Numeri da record in tutta la provincia, in particolare per Capodanno. Per la notte di San Silvestro, infatti, diverse località hanno registrato il tutto esaurito. Nella provincia di Biella, l'Oasi Zegna ha visto un significativo aumento degli ski pass venduti, 4.000 dal 23 dicembre al 5 gennaio, con una crescita quasi del 50% rispetto al 2016. Segnali di crescita anche nel territorio del distretto dei Laghi e della Valdossola. Più 10% di presenze sugli impianti di San Domenico, positivi in linea con la stagione 2016-2017, invece quelli di Macugnaga, Domo Bianca e San Domenico di Varzo. Nelle ultime due stazioni, buon di sciatori per le aperture delle piste da sci in notturna. Nella Valsesia, ad Alagna, tutti gli albergatori hanno registrato ottime presenze per tutto il periodo natalizio, anche fino al 100% stazionari i passaggi sugli impianti di Monte Rosa Schi. A Scopello e Alpe di Mera, presenze in aumento dopo Capodanno e una media di 1.200 passaggi al giorno sulle piste, in aumento rispetto al 2016. La montagna invernale si conferma ancora una volta un fattore fondamentale di attrazione per il nostro turismo, dichiara Antonella Parigi, Assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte. Un settore per il quale abbiamo messo in campo numerose azioni, dalla modifica della legge regionale ai fondi per la sicurezza e l'innevamento, nonché di investimenti, a partire dai 24,5 milioni di euro per gli impianti. E' stato venduto in via Rivoli 4 a Rostra, in provincia di Torino, il biglietto da 1,5 milioni della Lotteria Italia. E' sempre in provincia di Torino, a Pinerolo, è finito il quarto premio da un milione di euro. A vincere lo è stato un sessantenne, parcheggiatore del posto, che ha deciso di regalare la somma alla figlia. Per me ha detto che sono troppi soldi e il mio tempo l'ho già fatto. La Befana è stata fortunata in Piemonte anche per i premi di seconda e terza categoria. Il primo invece è andato alla Regione Lazio. I vincitori hanno adesso 180 giorni per riscuotere il premio. Dovranno presentarsi agli sportelli della Banca Intesa San Paolo o all'ufficio premi di Lotterie Nazionali, muniti di tagliando vincente, che dovrà essere integro ed originale. Il pagamento avverrà entro i 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Intanto Lotteria Italia ricorda a chi ha partecipato al concorso di controllare la propria scheda per non finire tra la lunga schiera di chi non ha mai riscorso la propria vincita. Da 2002 a oggi, infatti, sono oltre 27 milioni mai ritirati. Due anni fa il biglietto venduto nell'area di sosta di San Nicola alla Strada, in provincia di Caserta, sull'autostrada A1, Milano-Napoli, non è mai stato reclamato. Chi lo aveva acquistato ha perso quindi la somma di 2 milioni di euro. Ma il premio agli sbadati va sicuramente a chi nell'edizione 2008-2009 non ha mai ritirato il tagliando venduto a Roma, che fu il primo estratto per un valore di 5 milioni di euro. E a proposito di gioco, tiene Banco la scelta da parte del governo di riordinare il settore gioco d'azzardo, decisione che, applicata in modo diverso nelle varie regioni, sta suscitando non poche polemiche tra il governo e il gestore degli esercizi commerciali con annesse macchinette. Se lo fanno da un lato, si si appella alla necessità di arginare un fenomeno, quella della ludopatia, che può rovinare non solo la persona che gioca, ma anche la sua famiglia. Dall'altro, chi ama invece scommettere ha già trovato altre soluzioni. Ma sentiamo di più da Alessandro Dallacan. Quel tentare la sorte, quella speranza di veder sorridere la dea bendata, può trasformarsi in qualcosa di patologico e, come tale, va curato. Deve aver pensato così lo Stato italiano, che pur intascando legalmente miliardi di euro dal gioco distribuito tra slot, grattevinci e performance online, ha lanciato il sasso per poi tirare indietro la mano, generando, come spesso succede nel bel paese, un gran caos in termini di applicazione di un riordino del settore che si appella a divieti e restrizioni applicati in modo disordinato, con un'inevitabile confusione. Ora, se è vero che lo scorso settembre il Ministero dell'Economia ha pubblicato in gazzetto ufficiale un decreto che prevede di ridurre del 34,9% le slot machine entro il prossimo 30 aprile, con l'intento di dimezzare nel giro di tre anni i punti di offerta, ad oggi, a due mesi dalle elezioni, non si sa se questa intesa diventerà operativa tramite i decreti attuativi di questo governo. E soprattutto, nel frattempo, si sono verificati scontri fra lo stesso governo e alcune regioni che, con una propria legge, hanno reso drastici i provvedimenti contro il gioco d'azzardo. Quello del Piemonte è il caso più scottante. Qui le nuove norme, più restrittive di quelle nazionali, sono entrate in vigore lo scorso 20 novembre e prevedono che gli esercizi pubblici dove sono presenti apparecchiature per il gioco debbano rispettare la distanza in base al percorso pedonale più breve, non inferiore ai 300 metri per i piccoli comuni e ai 500 per quelli oltre i 5.000 abitanti, dai cosiddetti luoghi sensibili, come ad esempio scuole, di ogni ordine grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi, ospedali, banche, stazioni ferroviarie. Inevitabili i malumori col governo e le proteste dei gestori, praticamente stroncati dalle disposizioni piemontesi, mentre nella vicina Liguria, dove per ora si è deciso di sospendere l'entrata in vigore della legge, e nell'altra regione di confine, la Lombardia, tira un'altra aria. Qui infatti vige lo stesso divieto applicato in Piemonte, ma ai comuni è data facoltà di individuare altri luoghi sensibili. E così il popolo dei giocatori d'azzardo nel frattempo si è organizzato, non solo dal Piemonte, reo d'aver deciso di spegnere le slot, oltrepassa al confine con relativa facilità, ma proprio nella vicina Lombardia spende i suoi soldi, rendendo ricchi e felici i gestori e i titolari di esercizi commerciali con annesse macchinette. Il giro d'affari parla di un consolidamento degli introiti, pur con una leggera frenata rispetto al 2016. Il fatto è che in Italia si continua a giocare, forse più di prima. Vediamo un approfondimento, sentiamo i pro e i contro le cosiddette macchinette. Alessandro Dallacano infatti ne ha parlato stamane con baristi e titolari di tampagheria. Sentiamo. Fisicamente in questo bar, siamo sullo spalto ad Alessandria, non ci sono più le slot. Lei le aveva? Ne avevo due. Sì, non giocavano molto, perché non spingevo tanto io sul gioco, no? Perché volevo tenere l'immagine del bar sempre pulita. però qualcosa arrivava, mi compensavano la luce, l'energia che consumavano, uscivano quei 500 euro al mese. Io non so come faranno gli altri, quelli che non hanno tanto lavoro come caffetteria. Quindi il danno arriva in questo senso, chiaramente. Diciamo che è una normativa, è stato detto ormai più volte confusa. È confusa perché di fronte abbiamo una sala giochi e lì ci sono. Sono delle leggi un po' strane. hanno colpito i piccoli, tabaccai e bar, e hanno tenuto in piedi quelle che sono gestite in alto, molto in alto, da persone facoltose che hanno questi soldi e anche i politici. In questa tabaccheria le macchinette, le slot machine, sono in attesa, leggiamo testualmente, di rimozione. Sì, in attesa, noi ci adegueremo a quello che deciderà la regione Piemonte e come ci siamo adeguati. Non è, secondo noi, una propria vera lotta alla ludopatia. Anche se ci guardiamo attorno, qui tra l'altro, insomma, è una tabaccheria e quindi chiaramente l'offerta c'è in altro senso. L'offerta gioco è ampissima, specialmente il Grattevinci perché noi abbiamo visto proprio convogliare tante di queste giocate delle slot al Grattevinci. Poi c'è l'otto, il Suprena l'otto, il Diecelotto, l'Eurojackpot, tantissimi altri giochi. Sicuramente l'offerta è ampia. In questa attività, in questo bar, non ci sono slot? No. È stata per una nostra scelta dal principio quando abbiamo deciso di prendere con le mie colleghe il locale. Penso che sia una cosa, comunque un ambiente dove in teoria, in base ai clienti che uno vuole avere, decide di avere in un lavoro, sia una scelta giusta. Noi abbiamo deciso di non metterle e va bene così. Il vostro locale è pieno comunque? Il nostro locale è sempre pieno. Il Bartabacchi, Giammaica, Piazza Carducci, Alessandria, è a due passi da una scuola. Per normativa, in Piemonte, normativa molto restrittiva, qui non si possono più tenere le slot machine. È vero, noi non le abbiamo mai tenute e non sono neanche d'accordo di avere queste, anche se fossero lontane dalle scuole, non sono ovvio d'accordo sull'uso di queste macchinette. Questo provvedimento che dovrebbe diventare legge, sempre che si riesca, entro le prossime elezioni, in realtà, è stato commentato da più parti, è un po' disordinato, perché ogni regione sta applicando un po' a modo suo, diciamo così, le varie restrizioni. Lei cosa ne pensa? Che cosa sarebbe opportuno? Sì, secondo me sarebbe opportuno che si uniformassero tutte le altre regioni che non hanno restrizioni e che ci siano le restrizioni come da noi. Adesso parliamo invece di rifiuti in alcune zone della città e allarme per il servizio di raccolta carente alla situazione e al vaglio dell'amministrazione comunale che sta avvarando un nuovo piano per ovviare il problema. Ma sentiamo di più in questo servizio, noi siamo andati sul posto. Sono molte le segnalazioni dei cittadini che sono arrivate alla nostra redazione. adesso arrivano anche sui social network che vengono inviate fotografie e documentazioni alla stampa locale per segnalare la non curanza diciamo di alcune parti della città per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Sembra che alcune zone vengano trascurate. Qui siamo in corso Carlo Marx e ci stiamo inoltrando il Cristo perché sembra che proprio qui in questo quartiere siano parecchie le vie, le zone che non sono state curate a sufficienza da coloro che devono raccogliere i rifiuti. La situazione è critica non tanto perché non vengono raccolti i rifiuti perché i bidoni sono stati evidentemente svuotati, i contenitori che sono stati fatti apposta per contenere i secchetti. Quello che purtroppo incide tanto è anche l'inciviltà dei cittadini quando i rifiuti vengono abbandonati nei casi in cui i rifiuti vengono abbandonati intorno ai cassonetti. Ecco, a questo punto sarebbe necessario raccogliere con diciamo spazzando pulendo con maggiore attenzione intorno ma sembra che questo viene segnato dai cittadini ma ci sembra evidente anche da queste immagini che non ci si preoccupi o non è stato organizzato questo servizio cioè quello di pulire intorno ai bidoni portando via la spazzatura i rifiuti che sono stati lasciati a fianco appunto per la strada. Qui ci troviamo nell'ultimo tratto di corso Carlo Marx adesso ci inoltreremo nella zona più in fondo verso la scuola di polizia. Cosa ne pensa? Facciamo schifo i cittadini prima di tutto c'è il bidone vuoto buttano sempre fuori c'è di tutto per terra purtroppo la situazione della raccolta è con me non vengono sovente però se si fa un passo in più magari il bidone era in fondo è vuoto io certe volte mi faccio un po' di strada a piedi però la vado a buttare dove vedo che il bidone è vuoto Sì a guardare la situazione in effetti buona parte della colpa sembra dei cittadini ma sì non si può io sono passata prima in una via c'era anche dei materassi si chiama chi di dovero si portano dove si devono portare non si può buttare i materassi o addirittura un cancello attaccato ai bidoni ecco qui invece abbiamo cambiato zona dal Cristo siamo venuti in pista siamo in via rivolta all'angolo con via Galileo Galilei e anche in questa zona c'è una situazione critica che è stata segnalata tantissime volte in tv tantissime volte nel nostro programma a filo diretto e nonostante le segnalazioni insomma la situazione è sempre piuttosto critica come dicevamo prima non si tratta di una vera e propria emergenza di fiuti si tratta di singole zone singole vie che probabilmente e neanche per intero voglio dire solo in alcune parti non sono curate a sufficienza la situazione è critica per i rifiuti anche in alcuni soborghi della città ne parleremo nelle prossime puntate adesso andiamo a Novi Ligure con 9 voti favorevoli e 6 contrari il comune di Novi Ligure ha approvato il suo bilancio di previsione per i prossimi due anni sentiamo quindi da Enrico Maria quali sono le novità principali a Novi Ligure il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 la manovra finanziaria ha ottenuto 9 voti favorevoli da parte della maggioranza e 6 contrari contestualmente sono stati approvati diversi documenti prepedeutici al bilancio di previsione tra cui la determinazione delle tariffe e delle aliquote comunali rimaste invariate rispetto allo scorso anno il bilancio è stato illustrato dall'assessore Simone Tedeschi il quale ha sottolineato il primo elemento importante vale a dire l'approvazione entro il 31 dicembre cosa che non succedeva da diversi anni questo evita l'esercizio provvisorio e consentirà alla struttura amministrativa di cominciare sin da questo inizio gennaio la propria attività secondo gli obiettivi fissati dal Consiglio tra i punti principali compresi nella relazione dell'assessore spicca il piano delle assunzioni finanziato con i risparmi sul personale in gran parte dovuti ai pensionamenti maturati nel corso dell'anno nel 2018 infatti la pianta organica comunale prevede otto nuove unità due operai due vigili un amministrativo un informatico e due funzionari di categoria D uno destinato all'ufficio urbanistica e uno all'ufficio tributi a questi si va ad aggiungere un concorso sempre per categoria D destinato all'ufficio ragioneria una significativa differenza rispetto al 2017 riguarda le spese per investimenti gli oneri e la monetizzazione legata all'ultimo lotto del retail park rendono infatti disponibili circa 600.000 euro per il bilancio 2018 come l'anno scorso 220.000 euro saranno messe a disposizione delle manutenzioni ordinarie di parte corrente mentre i restanti verranno destinati agli investimenti la quota più rilevante andrà sulle manutenzioni stradali considerando anche le risposte provenienti dalle contravenzioni stradali verranno destinati alle asfaltature oltre 430.000 euro contro i soli 100.000 appostati nel preventivo 2017 32.000 euro sono invece destinati agli edifici comunali e serviranno come primo supporto per il trasferimento nella sede comunale di Palazzo Pallavicini dell'Inps e del centro per l'impiego che si stanno finalmente concretizzando ampia parte della discussione in aula ha riguardato il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti che verrà attuato in modo graduale tra il 2018 e il 2020 il cronoprogramma prevede dal 2018 l'avvio in città del porta a porta spinto per le utenze non domestiche nel 2019 comincerà il porta a porta anche per le famiglie e nel 2020 entrerà infine in vigore la tariffa puntuale siamo arrivati al termine con il nostro appunto con l'informazione tra poco ci sarà la pagina sportiva l'Alessandria Calcio sotto la guida di Mr. Marcolini riprenderà gli allenamenti domani martedì 9 gennaio alle ore 10 presso il Michelin Sport Club di Spinetta Marengo nei grigi esordirà Emanuele Gatto il nuovo acquisto dal Chievo che sentiremo nelle sue prime dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della squadra quindi alessandriacalcio.it nella pagina sportiva sempre vedremo i 5 gol segnati dall'Alessandria nell'ultimo incontro ufficiale di campionato del 23 dicembre e oltre all'intervista con appunto Emanuele Gatto e poi naturalmente subito dopo le previsioni del tempo grazie per l'attenzione arrivederci alla prossima edizione grazie per la visione